Buonasera e ben ritrovati. Idea che ci è venuta in mente stamattina? Così, debotto senza senso, tier list dei giochi di Street Fighter, dal primo all'ultimo. Ovviamente escluso Street Fighter 6 perché non sappiamo com'è. Cominciamo subito. Allora, questi sono i migliori Street Fighter, secondo me. Dal migliore al peggiore, o meglio, dal peggiore al migliore. Partiamo con Street Fighter 3 Second Impact. Allora, molto belli gli sfondi, io amo gli sfondi di questo gioco. Il gameplay è abbastanza rotto, però devo dire che è molto divertente. Oltre al First Strike, questo è sicuramente il mio preferito, è sicuramente un grosso upgrade rispetto a New Generation. Quindi io lo metterei in A. Street Fighter e First Strike, vabbè, poco da dire. Il pinnacolo, quindi uno dei migliori Street Fighter della storia, lo mettiamo senza ombra di dubbio in S. Probabilmente il miglior Street Fighter. Quindi partiamo subito in tromba con due esponenti della serie Street Fighter 3 molto, molto, molto belli. Quindi Street Fighter Third Strike ovviamente è il punto di arrivo della serie Street Fighter 3. È ancora oggi uno dei migliori giochi, è ancora giocatissimo, tra l'altro. Quindi S sicuro. Ma anche il Second Impact si difende molto, molto, molto bene. Street Fighter Alpha, tra gli Alpha probabilmente il peggiore, perché è il più embrionale. Anche se rispetto alla serie Street Fighter 2 comunque è stato un gioco che ha portato delle novità. L'aspetto grafico, le supera a tre livelli, ha reintrodotto nuovi personaggi, che però ha reintrodotto personaggi di Final Fight, che sono nuovi personaggi nella serie Street Fighter, come Beardy, come Guy, Beardy da Street Fighter 1 e Guy da Final Fight, poi ci saranno anche Cody. Comunque a livello di Combat System ancora un po' embrionale, sinceramente. Gli altri sono sicuramente superiori. Lo metterei in B. Street Fighter Alpha 2 anche lo metterò in B, perché comunque il discorso è questo. Gli Street Fighter Alpha, per quanto sono rotti a livello di meccaniche, non meritano la S, secondo me. E tra gli Street Fighter Alpha il migliore è sicuramente il 3, quello più completo, quello con il Vism, quello con i variism, il V in particolare, perché di fatto in competitivo si usava soltanto quello. Di conseguenza metteremo il 3 in A e gli altri 2 in B. Mi sembra corretta come cosa. Super Street Fighter Arcade Edition 2012, ne parliamo dopo. Parliamo di Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Io lo metto in A, perché è una versione veramente, veramente, veramente solida. Ha, diciamo, il problema di Yoon & Young, che... Ah, non lo mettiamo in B. Alto B, ah? Perché Yoon & Young e F.A. Long lo hanno completamente rovinato. Quindi forse è il peggiore tra gli Street Fighter 4. Insieme al Vanilla, che era rottissimo, ma il Vanilla aveva questo flavor, questo fascino di uno Street Fighter che mancava da tantissimi anni, e quindi io lo metterei un pochettino più in alto. Forse effettivamente, tolto il fascino del Vanilla, che è comunque più sbilanciato del Super Arcade Edition, l'Arcade Edition è il peggiore. Champion Edition, una merda. Al momento questo gioco è pessimo, è veramente, veramente pessimo. Sbilanciato. Ovviamente è figlio dei suoi tempi, però al giorno d'oggi non ha senso di esistere, ragazzi. Sbilanciato. Stralento. Se vedete le partite a livelli alti di questo gioco, è continuamente Bison, che fa il missile, e ti toglie metà vita, tipo imparata. Quindi è assolutamente improponibile come gioco. Street Fighter 2 lo mettiamo anche in D, sì, perché ragazzi, parliamoci chiaro, sotto il Super e il Super 2 Turbo siamo un po' troppo vecchiotti, secondo me. Quindi questi giochi sono un po' troppo vecchi da essere considerati validi al giorno d'oggi. Hanno fatto la storia, sicuramente, però bisogna anche contestualizzare un po'. E questa è una tier list che nasce come contestualizzazione, visto che parliamo di tutti gli Street Fighter. Street Fighter X plus Alpha. Io ho un debole per questo gioco. Non vedo gli altri in questa tier list, quindi parleremo della serie X nella sua totalità. No, ci sono gli altri, effettivamente, però facciamo finta che la serie X è una sola. X plus Alpha io l'ho consumato, letteralmente. E il gioco che mi ha fatto imparare a fare le combo in versione PlayStation, colonna sonora eccezionale. E io da musicista non posso che metterlo in A per via della colonna sonora. Mi dispiace, però ovviamente non vuole essere una tier list oggettiva, è una tier list assolutamente soggettiva. Non merita probabilmente la A come gameplay, però tutto quello che gira intorno a questo gioco ha una sorta di aria mistica e a me la colonna sonora fa impazzire, ragazzi. Ha un valore nostalgico, ha un valore musicale questo gioco particolare. Anche se non è eccezionale a livello di meccaniche. Quindi probabilmente non merita l'A, ma io lo metto in A lo stesso. Street Fighter New Generation, sotto il First Strike, sotto il Second Impact, io lo metterei in B. Parte alta di B. Perché, paragonato agli altri due, è sicuramente inferiore. Soprattutto paragonato al First Strike. Però è quello che ha dato il via alla serie Street Fighter 3. Però quindi anche lui ha un suo perché. E soprattutto a livello di animazione rispetto al 2 è un salto enorme, è un salto gigantesco. Street Fighter 4, per il significato che ha nella mia vita, lo metto verso la fine di A. Perché, parliamoci chiaro, se lo analizziamo al giorno d'oggi, questo gioco sarebbe più da B in realtà. Ma è rotto, è rotto, è rotto, è rotto. Diciamo che all'epoca non avevamo i mezzi per vedere veramente il rottume di questo gioco. Ma preso al giorno d'oggi è sbroccato completamente. Seth, Akuma, Sagat, già all'epoca perché Sagat bastava premere un tasto e faceva tipo 200 danni con un calcio forte. Shoryuken Cancer Ultra toglieva tipo 700 o qualcosa del genere. Quindi competitivamente è probabilmente lo Street Fighter peggiore. Però ha un fascino particolare perché è stato il mio primo picchiaduro competitivo al 100% e ha fatto rinascere completamente la serie Street Fighter. Quindi diciamo che è ancora giocabile. È tremendamente rotto ma ha avuto un ruolo importantissimo nella mia vita e nella vita di tutti i giocatori di picchiaduro che hanno visto rinascere il genere proprio attraverso Street Fighter 4. Street Fighter 5 Arcade Edition. Vabbè, dovremmo parlare delle season in cui ci sono soltanto due versioni. Facciamo che Street Fighter 5 è la prima season. Io la metto in D. Perché sì, è vero che è meglio degli Street Fighter 2, però è veramente oscena la season 1 di Street Fighter 5. È probabilmente dei peggiori picchiaduro. Perché è tutto sbagliato. Cioè, è uscito senza modalità, il gioco era sbilanciatissimo, il gioco era di una noia mortale. No, 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 no. Uno dei peggiori picchiaduro sicuramente a cui ho giocato. Street Fighter Arcade Edition. Parliamo di come è arrivato. Quindi parliamo dell'inizio. Con il 5 parliamo della fine. Ovvero come è adesso. Ipotizziamola così. Lo metterei in... Difficile. Sotto Street Fighter 4 ma sopra gli Alpha. È un gioco comunque decente. Ripeto, io ho un particolare odio per questo gioco, però cerco di essere quanto più oggettivo possibile. Anche se sicuramente non lo sono. Però ragazzi, no, 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 no. C'è di meglio, c'è di meglio nella serie Street Fighter, fortunatamente. Super Street Fighter 2 The New Challengers. Mettiamolo in B. Anzi, mettiamolo in A. Mettiamolo in A. È un gioco che si difende bene ma non ha senso giocarlo al giorno d'oggi perché c'è Super Street Fighter 2 Turbo. Che secondo me va messo in S. Sono le migliori versioni dei rispettivi capitoli. Quindi secondo me vanno messe in S. Sono proprio il punto d'arrivo. E Street Fighter 2 Turbo ancora oggi è giocato. Io personalmente non lo giocherei. A me personalmente non piace. Ma è un gran gioco. È un gran gioco che continua a muovere gente dopo tantissimo, tantissimo tempo. Super Street Fighter 4 io lo metto in B. insieme all'Arcade Edition, anche se li sostituirei sinceramente. Perché Super Street Fighter 4 aveva un grossissimo problema. Ovvero i top tier erano badili. La tecnica in Super Street Fighter 4 non esisteva. DUD li faceva cagare. E i più forti erano Honda, Balrog, Bison, Guile, questi personaggi qua. Ma era un metagame veramente stantio. Quindi non l'ho particolarmente apprezzato. Sì, era sulla cresta dell'onda. Sì, ero pieno di eccitazione. Perché ero appena entrato nel mondo dei picchiaduro competitivi. Però è probabilmente la versione peggiore insieme all'Arcade Edition. Ultra Street Fighter 4 lo mettiamo al verso la fine di A. Perché purtroppo non è stato un gran gioco. Le introduzioni dell'Ultra sono state abbastanza bruttine. Personaggi che sono entrati nel meta, tipo Elena, hanno un po' fatto storcere il naso a molti giocatori. Secondo me non è la versione migliore. Dal punto di vista del bilanciamento di Street Fighter 4. Vediamo, forse la mettiamo giusto sopra il vanilla. Sì, mettiamola sopra il vanilla, sicuramente. E anche sopra questo. Sì. Forse dovremmo fare così. Così. Ok. Perfection. Questo è perfetto. Sì, penso ci stia bene lì. Non in S perché nonostante fosse un gran gioco, purtroppo, certe aggiunte... Certi aggiunte erano positive. Per esempio, il rialzo ritardato. La possibilità di ritardare il rialzo, che ha ucciso il Vortex, fondamentalmente. Però i nuovi personaggi avevano delle storture notevoli. Quindi... Abbiamo già visto Street Fighter 2, Champion Edition, e quindi ci mettiamo qui anche The World Warrior, perché è precedente alla Champion Edition. Forse è giusto che la Champion Edition è migliore delle altre. Ricordiamo, la Champion Edition permetteva di usare i boss, quindi è comunque migliore della versione base. Però, ragazzi... Il Super 2 Turbo è il gioco da fare. Se vi piace Street Fighter 2, gli altri, lasciamoli alla storia. Quegli altri due Street Fighter X non ne parlerei, perché... L'X Plus Alpha è quello che ho giocato di più. Gli altri due, francamente, non li ho giocati tantissimo. Quindi... Non li mettiamo. Super Street Fighter 4 Arcade Edition 2012, invece, secondo me, è la miglior versione di Street Fighter 4. Quindi io farei così. Questa dovrebbe essere la tier list. L'Arcade Edition 2012 è bellissima. Secondo me è la versione migliore. Tutti i personaggi erano forti. Tutti i personaggi, o quasi, erano in grado di vincere delle major. Non c'erano le storture di Elena ed altri personaggi. Quindi, secondo me, era... Si giocava il miglior Street Fighter nell'Arcade Edition 2012. Bene, ragazzi. Questa era la mia tier list. Ovviamente è un discorso puramente soggettivo. Chiunque altro può fare una tier list e avere un risultato completamente diverso. Però questo è il mio punto di vista sui vari Street Fighter. Spero lo abbiate apprezzato. E ci vediamo al prossimo video.